Un caro saluto da Diego Fusaro, professionisti dell'informazione. E' questa, come ben sapete, la ridicola, pomposa e autocelebrativa definizione che il clero giornalistico regolare si è autodonato fin dalla primavera del 2020. Categoria ridicola, se ci pensate, perché autocelebrativa. Se davvero siano dei professionisti dell'informazione sta ad altri sottolinearlo, non certo a loro stessi. Ogni elogio di sé finisce per suonare immancabilmente come ridicolo nella migliore delle ipotesi e come in cattiva fede nella peggiore. Ebbene, a proposito di corrieri di professionisti dell'informazione, considerate quello che è riuscito a dire il Corriere della Sera in data 6 febbraio 2021. Una notizia che davvero merita attenzione e che non può non destare ilarità nella migliore delle ipotesi, preoccupazione nella peggiore. In particolare, nell'articolo Ai mercati di Traiano con Napoleone, che mai riuscì a vedere Roma, apparso nell'edizione romana online del Corriere della Sera il 6 febbraio, leggiamo testualmente. Napoleone non venne mai a Roma, ma la desiderò molto. A lei si ispirò e ai suoi imperatori Augusto, Alessandro Magno, ma anche a Giulio Cesare. Insomma, il Corriere della Sera riesce a far diventare Alessandro Magno imperatore di Roma. Avete capito bene, Alessandro Magno diventa l'imperatore di Roma. Siamo davvero ormai in un ambito di tale professionalità dell'informazione che questo è il risultato. Ebbene sì, sono i professionisti dell'informazione e riescono a celebrare Alessandro Magno come imperatore romano. Credo che davvero non vi sia altro da aggiungere. Intelligenti pauca. Grazie. 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 Grazie.